Siamo in compagnia del Presidente del Tribunale di Vasto, il Dottor Bruno Gian Giacomo. Per quanto riguarda il futuro del Tribunale di Vasto, nei giorni scorsi c'è stato anche un incontro per discutere di tribunali e non solo del futuro di questi. Però che cosa è stato detto? Ci sono novità a tal proposito? Noi cerchiamo di fare il possibile, sia io che il Procuratore della Repubblica, chi ha compiti di direzione, di far andare questo tribunale al meglio. A volte ci riusciamo, a volte no. Dipende dalla necessità che tutte le componenti possano lavorare attivamente. Sicuramente. Però detto questo, come dico io, questa può essere una condizione necessaria ma non sufficiente a far mandare il Tribunale. Perché il discorso della chiusura dei tribunali è un discorso che è stato fatto da una politica volta al risparmio di spesa. Capisce bene che tutto questo, rispetto alla funzionalità, non c'entra, o meglio, rispetto alla funzionalità si fa prevalere un altro interesse. A questo punto, se questo interesse continua a prevalere, c'è niente da fare. E la prevalenza di un interesse piuttosto che di un altro è una funzione tipica nel sistema democratico della politica. E quindi è la politica che ha questo tipo di responsabilità. A proposito del protocollo d'intesa che è stato firmato nel mese di luglio dello scorso anno, l'organizzazione è migliorata? Direi di sì. Perché facciamo, mi sembra che anche gli avvocati siano soddisfatti. Perché? Perché questo protocollo tende a dare un'organizzazione delle udienze con orario puntuale e fisso. E non, come si faceva una volta, che i processi venivano messi in udienza dalle nove in poi. Naturalmente, le immagini, un test che stava e veniva alle nove e veniva sentito all'una, all'una e mezzo. Oggi si cerca di fare in modo tale che ci sia l'orario puntuale. Naturalmente questo viene fatto anche sulla base di una valutazione del giudice e degli avvocati che a volte può essere errata. E come si dice, si può sforare l'orario. Però questo è un discorso diverso. In ogni caso, io non ti faccio stare lì inutilmente per tanto tempo. E questo è un vantaggio anche per gli avvocati, i quali arrivano in udienza in ragione dell'orario previsto. E insomma, è un modo di organizzare, razionalizzare l'udienza, non mettere un sacco di processi che poi non riesce a celebrare o a rinviare inutilmente, e fare il possibile perché la macchina venga marci in modo più organizzato, più appropriato. Lo stiamo facendo anche per il settore civile. E un pochino, ci sono delle difficoltà per il settore civile, perché c'è il processo civile telematico che ormai è a pieno regime e ha qualche problema. Non che il settore tecnico abbia qualche problema. Tutto sommato, il processo civile tematico qui va. Ma insomma, questo richiede un po' una rielaborazione del lavoro dei giudici e degli avvocati e quindi su questo ci si sta confrontando. L'estate non riusciamo a garantire anche questo protocollo? Quello che io spero di arrivare, come l'anno scorso, prima dell'estate abbiamo fatto quello penale, questo è un po' più difficile. Questo vale anche per il gratuito patrocinio, che è una cosa che agli avvocati interessa molto affinché ci siano delle liquidazioni rapide. A proposito di personale, è sufficiente per sostenere il lavoro che deve essere svolto qui al Tribunale di Vasto? È una situazione ancora gestibile. L'anno scorso abbiamo avuto i lavoratori socialmente utili della regione, sono stati importantissimi. Quest'anno speravamo di averli e non ci sono ancora arrivati. C'è un problema delle qualifiche perché, casomai, abbiamo qualche scopertura in certo settore e qualche surplus in qualche altro settore. Questo perché non tutti all'interno del personale amministrativo possono fare tutto. Sia quelli con qualifiche superiori non possono fare cose di qualifiche inferiori e viceversa. Però noi comunque abbiamo una scopertura del 6%, che rispetto alla media nazionale è un mezzo paradiso, se proprio lo ricordiamo di... La media nazionale si aggira ormai tra il 15-20%. Quindi capite come... Sì, i problemi ci sono. E ripeto, è importante, senza il personale amministrativo i processi non si fanno. Lei è stato anche magistrato presso l'ufficio studi del CSM e si è anche occupato del processo della banda della UNO Bianca. Alla luce della sua esperienza, che cosa cambierebbe nella macchina della giustizia per farla funzionare meglio? Lei ha citato due situazioni della mia vita professionale di magistrato importanti perché attengono, uno, agli aspetti organizzativi e invece poi ho fatto processi di un certo tipo durante la mia carriera che è tipico dell'attività giurisdizionale. Detto questo però, la macchina della giustizia è una macchina compressa e se non va non c'è una causa unica. Però, io due cose gliele voglio dire, prendendo dei dati abbastanza, secondo me, importanti. Uno per il penale, uno per il civile. Questo è un dato di fatto. Lo prendo dal rapporto CEPEI, che è il rapporto della Commissione Europea per l'efficacia della giustizia, che valuta tutto il sistema giustizia nell'ambito dell'Europa. Noi siamo un paese di 55-60 milioni di abitanti, in un territorio relativamente piccolo, quindi a buona densità di popolazione, dove ci sono tre organizzazioni criminali serie. Camorra, Andrangheta e mafia. Più qualche di un'altra, che non scherza, ce ne abbiamo qualcuna anche nelle Puglie, quindi non è. Ma prendiamo queste tre tradizionali. Questa situazione non c'è in nessuno Stato dell'Europa. Nessuno. Nessuno ha questo tipo di criminalità a questo livello. Questo determina una cosa assolutamente eccezionale. E gliela dico subito, che noi siamo il primo paese in Europa, ripeto, il primo paese in Europa, per processi portati davanti a un tribunale. Ogni anno c'è una media di 1.400.000 processi penali portati davanti a un tribunale. Al secondo posto c'è la Russia, che ne porta poco più di un milione. Ma la Russia fa 150 milioni di abitanti. Noi ne facciamo 60 milioni. Un paese come la Francia, che ha poco più di abitanti di noi, 60-65 milioni di abitanti. E al quinto posto. E porta 600.000 processi davanti a un tribunale. Cioè meno della metà dei nostri. Civile. In civile siamo al secondo posto annuo, con 2.400.000 cause l'anno. Siamo secondi solo alla Russia, un paese che ha 150 milioni di abitanti, che porta 13 milioni e mezzo di cause. Quindi fuori quota. Ma le faccio un esempio. La Germania, che fa 90 milioni di abitanti, fa all'anno 1.500.000, 1.600.000 cause. Noi ne facciamo 2-4. Io ho fatto questi esempi per dire che la giustizia è un qualcosa che interviene dopo. Dopo che la patologia si è manifestata. Quindi per prendere in prestito dalla medicina, la giustizia cura. Cura qualcosa che c'è, che si verifica, e che si verificherebbe comunque. Ma se io non agisco sulla prevenzione, io mi ritroverò sempre una giustizia che deve intervenire. Cioè se io non agisco politicamente e socialmente per cercare di contenere, se non eliminare, le forme di criminalità organizzata e associata, io avrò sempre questi numeri. E non ci sarà nessun sistema giustizia che lo riesce a tenere o a contenere, perlomeno a contenere. E la stessa cosa vale per il civile. Se noi abbiamo una situazione per cui l'inadempimento, la crisi derivata da crisi economica, da furbizia, da quello che le pare, da persone che vivono in un certo modo, se questo non si trasforma, se questo fenomeno non ha una sua riduzione, non c'è nessuna giustizia che lo può reggere. Bene, più pesanti potrebbero in qualche modo aiutare a migliorare la prevenzione? Beh, guardi, francamente io credo di no. E le dico perché anche questa è la cura. Ma se alle persone non dai prospettive dando solo il carcere, quando escono, il problema si propone. Né tantomeno possiamo avere carceri strabordanti, anche perché, come ha visto, poi l'Europa ci condanna perché non abbiamo il sovraffollamento carcerario che abbiamo ridotto molto con le penne alternative. Noi viaggiavamo nel 2009 con quasi 70.000 detenuti in carcere. Oggi viaggiamo sui 52.000, 53.000 perché poi l'Europa ci condannava e li dovevamo pagare perché non avevano gli spazi sufficienti che avevamo il sovraffollamento. Noi abbiamo un sistema carcerario che può contenere 49.000 persone. Già adesso ne conteniamo qualcuna di più con 52.000, 53.000. ma fino a qualche anno fa ce ne erano quasi 70.000 che è una cosa pazzesca. Cioè il carcere serve per contenere la situazione grave però poi ci deve essere una soluzione che non sta nel carcere. Quindi Grazie per la visione!